Una brutta disavventura ma fortunatamente terminata a lieto fine quella che una bambina ha dovuto affrontare tra le mura dell'ospedale di Brindisi. Stando a quanto si apprende, il solo intervento degli operatori sanitari non è bastato a liberare la piccola da un anello incastrato al dito. Pertanto, si è reso necessaria l'azione di alcuni operatori dei vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare l'anello con un dremel. Strumento di precisione, salvando il dito della giovanissima senza gravi conseguenze.